C'ha fame ragazzi, c'ha fame come un ragazzino Rocchino Ant. Sono molto contento degli ultimi gesti, diciamo, delle ultime scelte di sto rapper, di sto ragazzone, perché è cresciuto ormai, non è più un ragazzino, anche se io me lo ricordo quando stava emergendo, che era a malapena 18enne e diceva tieni presente quando il sogno in cui credevi tanto, mo' si sta avverando, poi lentamente sfociato nel pop più assoluto, la vittoria a Sanremo Giovani, lo sfondare in quel settore, scelte che poi si sono protratte nell'oggi e si ritrova ad essere praticamente un hitmaker, uno anche da hit estiva, ebbene sì, ebbene sì, però poi c'è un discorso che bisogna fare, ovvero che quando a lui gli dà in mano il microfono e gli dice adesso rappa, lui rappa, quindi ok la carriera, ok il lavoro, ed è giusto così, perché c'è stato un momento in cui da pop star stava per finire nel dimenticatoio, stava per non avere la credibilità per essere un rapper e non avere più i numeri per essere una pop star, e quindi un attimo stava rischiando, ma lui che ha fatto? Lui si è rialzato, si è ripreso i numeri per fare il pop e si è ripreso la tecnica per fare il rap, quindi io rispetto Rocco Ant, lo rispetto, di questo brano, di questo freestyle, di questo esercizio di stile mi colpisce la voglia, l'incazzatura, la fotta, la garra, e la cosa si fa rap già dal secondo beat, il primo beat lo affronta in maniera molto pop, ma è giustificato anche il modo in cui ne parla, addio fai di meno a pop star, dischi d'oro e billboard, ho visto più governi cadere che stelle, insomma lui non è, ha un gergo che arriva a tutti, sia a livello di parole che di concetti, e non lo definirei populista, lo definirei popolare, che è differente, questo certo ha aspetti negativi e positivi, da un lato di positivo c'è da dire che il potenziale di pubblico è vasto e quindi di conseguenza puoi arrivare a tutti senza snaturarti troppo, questo è un grande pregio per il mercato di oggi, quindi di conseguenza è normale che lui abbia avuto successo subito perché colpiva, mi ricordo le due storie in cui ti raccontava le vicende anche di Stefano Cucchi e lo faceva in maniera molto underground, però con un modo di parlare che arrivava a tutti ai tempi si diceva questo arriverà lontano e tanto è stato, poi la faccenda si fa più rap in questo real talk che secondo me è il format perfetto per far emergere il lato più interessante, più coinvolgente, più forte di Rocco Ant, oggi che il napoletano è lingua a sé, oggi che un napoletano non deve per forza italianizzarsi ma può rimanere fiero delle sue origini e arriva ugualmente a tutta Italia nelle classifiche e ai vertici, quindi di conseguenza io vi consiglio l'ascolto di questo real talk che secondo me è uno dei più interessanti che siano stati fatti e di un Rocco Ant in forma smagliante.